Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video di Dipe.io E si avete capito molto bene Ieri ho visto il video di Reddits quindi è tutta colpa tua Reddits Perché è da ieri che io ci sto rigiocando Dopo che ho visto il video mi sarò fatto almeno una ventina di partite Perché era da tanto che non ci giocavo e sinceramente mi mancava anche un pochino Quindi ho pensato perché non riportarlo anche voi sul canale ragazzi Anche per ricordare un po' i vecchi tempi Quindi 300 like, condividete il video, iscrivetevi al canale se sei nuovi Lascia l'hashtag Dipe.io Ma sotto i momenti per ricevere un cuoricino e mettere pure un hashtag E' colpa di Reddits perché è tutta colpa tua Ecco, allora direi di andarci a fare una bella partita in free for all Di cattiveria proprio così a secco Allora ho visto lui giustamente che giocava e mi è venuta voglia Anche se come ha detto anche lui stesso è un po' alle prime armi con questo tipo di gioco E quindi ha dovuto capire e mettersi un po' a scoprire la logica Anche se è rimasto stupido di punteggi abbastanza alti Però ce ne sono anche di peggio io non ho incontrati gente veramente con 2-3 milioni E non mi ricordo neanche quanto è stato il mio record quando lo portavo sinceramente Che poi dopo l'hanno superato in 10.000 persone perché giustamente la gente non sta lì Arriva sempre quello nuovo e migliore Ma bando alle ciance cerchiamo di rimanere in vita e di potenziarci alla grande Andrò molto aggressive anche se qui vedo che già mi stanno puntando male E come al solito quando vai a finire in mezzo alla mucchia non c'è niente da fare se more Quindi non perdiamoci in chiacchiere Cerchiamo di rientrare immediatamente e riprenderci i punticini che c'eravamo guadagnati A mezzo a mezzo bullet penetration e bullet speed anzi no bullet damage scusate Così si cominciano a farmare questi più velocemente perché ci danno molti più punti Bullet penetration permette anche di trapassare meglio questi blocchi e quindi di distruggerli prima Ecco per esempio questo è uno che se non sta attento ci muore male perché pensa di avere tanta vita Ma il problema è che molti di queste persone fanno delle spec delle build molto stabili E le build stabili giustamente non vanno a rischio Quindi muoiono in quella maniera come è morto sto tizio Allora io adesso farò un equilibrio tra bullet speed e railroad fino ad arrivare al massimo ragazzi E vado di machine gun Voglio andare molto aggressive perché se riesco di peso subito a buttare giù anche quelli più alti in classifica Gli freghiamo tutti i punti e ci ritroviamo di nuovo tra i primi come una volta Anche se ci credo effettivamente poco che alla seconda partita ci riusciamo Ok quel tizio sta scappando perché ha capito effettivamente che stavamo con un po' di vantaggio colpi Ecco per esempio quei cosi brutti gialli verdi come so perché io so poi dal tonico non li vedo mai bene Sono molto fastidiosi perché non dovrebbero proprio esistere E' sempre detto che è stata un'aggiunta sbagliatissima da IP Specialmente nelle modalità libere Cioè nel senso vuoi fare una modalità farming ci può pure stare che ce li metti Ma se metti un free for all che è un versus tutti Quindi sinceramente è un boss inutile là in mezzo che dà soltanto fastidio ai singoli che magari stanno farmando tranquillamente E infatti è quello che sta succedendo a me perché ancora mi sta attaccando quel coso Perché poi se gira tutta la mappa in largo Ok quella è pericolosa come classe dobbiamo starci attenti Allora questa ha cambiato adesso quindi è sedito adesso di livello non è così problematico Questo è piccoletto Però il piccoletto se mi piglia bene mi rovina Dobbiamo stare sempre attenti a tutti Anche il piccolo dietro che magari c'ha body damage Stiamo nei guai se ci tocca Ok ho killato qualcuno senza neanche guardarlo Mamma mia stiamo per maxare tutti i danni bullet damage bullet penetration E con i colpi abbiamo appunto un pochino di spinta in più Quando scappiamo Ecco per esempio quello era il cerchinetto di prima che mi piacerebbe uccidere male Perché sta scappando da quella cosa brutta che ci stava attaccando Aia Non pensavo facessi tutti questi danni Pensavo ti fossi fatto una build più resistente Perché di solito i cecchini visto che già fanno diversi danni con l'arma Si tendono a mettere in difensiva Perché se vengono colpiti una volta vengono uccisi male Non farò l'upgrade perché voglio prendere l'upgrade di livello 45 Che è quello che viene dopo Sempre se riesca a rimanere vivo perché bisogna vedere Ok il primo è stato ucciso quindi il primo in classifica adesso ha 92.000 punti Che non sono tantissimi Mi ricordo una volta con non mi ricordo mai come si chiama Non lo sprayer che è quello che sto facendo adesso Ma quello lì che corre veloce Mi ero fatto se non erro 500.000 punti Il cecchino mi stava fregando e ci riproverà sicuramente a fregarmi Perché la sua tentazione visto che ho poca vita è di uccidermi male Infatti sta cercando di seguirmi E no 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 un body damage Mamma mia che fortunello che sono e forse uccido pure il cecchino No il cecchino si è salvato a fortuna Mannaggia lui Guardalo E ho capito però Sto circondato Quando succede così non ci potete fare niente Io rientro dei cattiveria perché abbiamo i punti già guadagnati Quindi è molto meglio ragazzi anche se morite e non ricaricate la pagina Rientrate con quello che avete E così riusciamo magari a recuperare un po' di punti in classifica Anche uccidendo gente random Ok giustamente arrivare da prima in classifica non è a prima botta Magari fosse così Nei vecchi video io facevo dei bei editing Con dei bei tagli fatti bene Giustamente voi vedevate magari solo la vittoria O solo le uccisioni senza tutte queste chiacchiere Ok vediamo un po' che riusciamo a combinare Allora il centro sinceramente è pericoloso a questi livelli È un rischio molto alto ma se gestito bene Si può salire molto più velocemente Tipo uccidendo quello Prendiamo un po' di punti in più E siamo già ritornati più o meno quasi a quello che stavamo prima sinceramente Anche se non sono in classifica perché Quelli che stanno in classifica hanno 22.000 punti Cioè soltanto 3.400 4.000 cioè sono pochi sono pochi Quando la gente arriva così che non te ne accorgi Vedi solo i pallettoni arrivare Ok intanto uccido roba e mi frego punti Allora potrei anche rischiarmela di andare al centro un pochino Per salire più velocemente di livello Sperando che non vanno tutti là Ok qua c'è un po' di roba da farmare Questi bellissimi triangolini ci vengono a attaccare perché noi ci Spostiamo verso la zona centrale La zona centrale diciamo è un po' Vietata ai piccolini E quindi per vietargliela fanno quella specie di cosini piccoletti Che danno fastidio E che ti attaccano e tolgono vita Invece gli altri magari facendo una build abbastanza equilibrata Avete un regeneration vita che comunque Vi riduce quella quantità di danni addosso Ok un bel reload maxato Quindi abbiamo maxato tutti i danni Dopo andremo a fare 3 alla vita Che sarebbe max health E un 2 a rigenerazione vitale Così almeno abbiamo Quella piccola appunto percentuale Che se andiamo al centro non ci rovina male Ok ancora non riesco ad entrare in classifica Perché sono ancora a basso Però almeno stiamo riuscendo a formare tranquilli Senza morire adesso Ho detto le ultime parole famose Perché tanto Quando lo dici È sempre sicuro che appare qualcuno Ecco tipo quello che corre Se si è fatto tankoso Potrebbe essere fastidioso Allora Ah Oh miseria quanti triangolini Mi ero dimenticato del centro Ecco il brutto di quando si è vicino al centro Che se non guardate bene la mappa Rischiate di andarci di botta E poi magari trovate qualcuno Che sta lì con qualche classe stealth Nascosto Che ci rovina male A parte pure questi grossi Che stanno venendo qua Stanno rompendo le scatole Oh Ok The Summoner Defeated Ok qualcuno Ha distrutto qualcosa Grosso che dava fastidio Ragazzi Ok Vediamo un po' Se riusciamo a sopravvivere Vedo il leader Che sta girando in sopra Quello Si può uccidere Buono Buono Sono punti per noi Se non ero al 45 Dovebbe sbloccarsi Appunto la classe Che voglio fare io Che è più o meno simile a questa Solo che ha qualche colpo in più E anche qualche colpo piccolo Aggiuntivo Agli attacchi che fa Ok Ammazziamo tutti Pure i piccoletti Perché sono sempre tutti La gente dice Ma sono piccoletti Che fai Ti attacchi ai piccoletti Si Quando si deve salire a punteggio Ogni punto è buono E anche i piccoletti sono buoni Anche perché i piccoletti Possono essere i prossimi grossi Che rompono le scatole Quindi è meglio eliminarli Sul nascere E magari Oh miseria I danni che mi sono arrivati Ok Mi spingo via E mi do di qua Assolutamente Mettiamo i due alter regen Subito Mamma mia che c'è mancato Se mi colpiva Una volta ero morto là Ok Allora Non sono sicuro Che sta ancora qui Sta ancora là sopra Per fortuna Con messa l'alter regen E sto recuperando vita Anche Se non è arrivato ancora Il momento di recuperarla Ok Sparo nella direzione Di quei maledetti Che stanno laggiù Che stanno combattendo E cerco di rispostarmi Verso il centro Ok Ho chillato qualcuno di grande Quindi mi sa che Ho maxato Sprayer Vai così E cominciamo a vederci In classifica Allora Dobbiamo puntare Alle prime posizioni Non ci frega niente Almeno secondo Ci vorrei provare ad arrivare Da tanto che non ci gioco Quindi Sinceramente Mi farebbe tanto piacere Questi bellissimi Cuboni grossi Danno un sacco di punti E al centro Si va per questi Più che altro Il problema Su questi triangolini Che siete bassi di livello Vi danno fastidio Per esempio adesso Posso pure farmi colpire Da due Perché guardate Come si rigenera Subito Sbam Sono full di nuovo E sto prendendo Un sacco Un sacco Un sacco Di punti Ok E nessuno Sembra che stia venendo Al centro A rompermi le scatole Quindi per adesso Sto anche abbastanza Tranquillo Guardate quanti triangolini Cercano di attaccarmi Ok Proseguo col mio farming Tranquillo Perché nessuno rompe Anche se ho visto Un volante Che potrebbe Girarsi Ok Non si è girato E questo è un piacere per me Intanto lì c'è uno Piccolino No Ecco gli è arrivato E questo rompe Eh però se lo colpiamo Muore male lui Perché si è fatto Totalmente damage E zero difese In questa maniera Risulta molto efficace Con quei triangolini Quando colpisce Ma Prende botte Male Eh no È scappato È scappato Perché stava morendo Ok l'ho ucciso L'ho ucciso per sbaglio Probabilmente Mentre fuggiva Allora Direi Eh no Eh no Eh no Sta qua O è un altro Mi sa che è un altro Allora il problema è Se io devo fuggire dal centro Senza farmi uccidere E mi ha fregato Mi ha fregato il maledetto Che è pure il primo in classifica Oltretutto Ma noi non demordiamo Non ci frega niente Rientriamo E vedrete che ritorneremo In classifica Molto velocemente Eh ho capito però Dai no 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 Questa è cattiveria eh Quando ti fanno spawnare Qua davanti Allora lui pensa che io sto lì Invece mi sto dirigendo Da tutta altra parte Cercando di salvarmi Perché non ha potuto vedere La mia direzione dei colpi Perché non avevo sparato Nella sua direzione No questo è un Body Body Se mi colpisce fisicamente Mi ha ammazzato Guardate che cosa devo fare Per salvarmi ragazzi Cioè per Per mantenere il mio punteggio Di 2008 Il rientro E anche abbastanza bassino Ok vediamo un po' Allora Reload Giustamente E cerchiamo di rimaxarci In quella maniera E questa volta stare più attenti Magari non andiamo Per malcentro Che potrebbe essere Un grosso problema Per noi Oh quanti danni prende Quello ho killato Pure qualcuno Aia Eh no però dai Mi hanno ricircondato Un'altra volta Però L'abbiamo ucciso E non sono morto E ho recuperato vita Perché non sono mai Stato attaccato Nel periodo in cui Hanno provato a spararmi E quello è Tanto Oh guardate quello Guardate quello Come ci prova E prende botte Prende tante botte E ucciso L'abbiamo ucciso Siamo ritornati già al 32 E lì c'è un bel 2400 punti vita Che stava farmando intorno Ma mi dispiace per lui C'eravamo noi là pronti Ad aspettarlo Ok Si Continua Quello è troppo piccolino Possiamo pure lasciare un po' vivere Dai Mi sembra giusto Ok Sparo nelle loro direzioni Così gli do un po' di fastidi E magari Li uccidiamo per sbaglio O a lui o all'inseguitore Che non sarebbe mica male Infatti stanno scappando malamente E il leader Non sono ancora pronto Per andarlo a prendere Prima ci stavamo Contro il leader E che ci ha preso Diciamo un po' Alla sprovvista Perché qualcun altro Voleva allevarci Il primato E romperci le scatole Oh lì c'è qualcuno da uccidere Non so se deviando i colpi Lo prendiamo Perfetto Ho visto anche un colpo Di un cecchino Che mi ha evitato Per un soffio Ok Adesso il primo è Oh miseria Cecchini Cecchinetti Oh Due cecchini Uno giù uno su Siamo seri? Siamo seri? E no eh Non si fanno ste cose Eh Sta furbizia E Ok non mi ha toccato Quindi posso ancora Rigenerare vita Sono di nuovo a livello 38 Questo è bello da uccidere Sì però Io penso ad uccidere uno E mi attaccano da sotto Nel momento stesso In cui decido chi attaccare Cioè questa è cattiveria Regà Questa è cattiveria Ho chillato qualcuno Senza averlo E penso che fosse pure Abbastanza Grandicello E sono al 44 No No non vale Guarda questo Si è fatto Movement speed Si ha fregato Col movement speed Ma noi non demordiamo Ma non ci frega Proprio niente Ma noi Ce la possiamo fare Oh è da tanto Che non gioco Ma ancora me la cavicchio Dai Dai Devo solo riprendermi Un pochino Ma non è male Non è per niente male Ok cerchiamo di livellare Assolutamente Prima di fare gli aggressive Perché ci sono Ho notato In questa partita Forse troppo unità Con le Come si chiama Le mini unit Che sono quelle che vengono evocate Che ti vengono addosso Di cattiveria Che poi sono quelle gestibili Che sono pure quelle più piccoline Che non sono gestibili Guarda ho ucciso qualcun altro E questo voleva uccidermi col body Invece va giù E beh Qui bisogna stare attenti Perché ogni persona Vuole ucciderti Oh Guardalo Guardalo questo E volevi Non l'ho preso L'ho preso Però non l'ho ucciso Giustamente ancora Non ho il max reload Perché se no Avevamo fatto molti più danni Potrei anche andare In direzione del primo In classifica A vedere che cos'è Intanto uccido gente a random Senza voler Guardalo 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 a questo Guardalo a questo Ho ucciso pure uno alle spalle Su Aiuto C'è troppa gente là sopra Ho ucciso un altro per sbaglio Punti gratis Punti gratis per noi Una, due E un altro again Per noi Ok Già siamo ritornati A livello 37 Con un attimo Giustamente non siamo Ugualmente in classifica E potremmo andare A dare fastidi al leader Che penso che sia un runner Perché vedo Che corre parecchio A retromarcia E spara tanti colpetti Quindi penso che sia un triangle O l'evoluzione Che non ricordo mai come si chiama Anche perché è da tanto Che non ci gioco Quindi probabilmente Non mi ricorderò mai Il suo nome Ok Riuscirò a rifare lo sprayer Ce la faremo Questo leader non si sta spostando più E questa cosa Da un punto di vista Mi preoccupa E dall'altra invece scappa E beh Siamo al centro Siamo al centro Forse è un po' troppo presto Perché non ho abbastanza Eltre again Quindi potrebbe comunque Darmi un po' di problemi Stare al centro Però qua puoi trovare Comunque Tutti i Big Medi Che rompono le scatole Quindi se riusciamo a fare Una bella kill decente Saliamo molto più velocemente Fa pure rima Non si sa perché Ok Siamo pronti A fare il macello Tendiamoci tutti Questi bei cubetti Così cerchiamo Di arrivare A livello 45 Il prima possibile Lì c'è un tizio Che si chiama Gogoman Che probabilmente Prenderà tante botte Anche se comincio Di nuovo A essere circondato Te pare? Te pare? Ok Ho ucciso qualcuno Per sbaglio Uno che si chiama Un imed tank Che non si è messo Neanche il nome del coso Va bene Sono diventato sprayer Con un imed tank Mica me ne ero accorto Non mi dite niente Questa volta ho fatto 3 e 3 Forse mi sono sbagliato Un tantino Ok Vuol dire che avrà Un po' più rigenerazione Non è molto un bene In questa situazione Però ok Sono in classifica Ci sono rientrato di nuovo Allora vediamo un po' Se riusciamo a fare Qualche cosa Primo la vedo difficile Perché comunque Se è un runner Di quelli che corrono Tutta la mappa Sono guai Perché non lo prenderemo mai Anche se abbiamo Una certa velocità Di movimento E sperando che non è Uno di quelli Tankosi Perché se no Quando lo andiamo a colpire Prima che lo ammazziamo Ci mettiamo 10 anni Ok Quello sarebbe da uccidere Molto felicemente E intanto Dei evitare i colpi Di qua Guarda questo Mamma mia I danni Sente dai Crepi Ok E' quello che tira i pallettoni Ho visto uno con i pallettoni E mi preoccupa un po' Siamo quarti E posso recuperare I punti qui E lì intanto E lì intanto c'è un altro Gol doppio Che potrebbe romperci Le scatole Ma noi gli diamo Tanto fastidio Che probabilmente Lo faremo anche Allontanare un pochino Allora questo è da uccidere Malamente Quindi lo dobbiamo Acchiappare Perfetto L'abbiamo ucciso Rimaniamo quarti In posizione Ma riusciamo a distruggere Uno dei cosi grossi Che potrebbe farci salire In classifica Ci piace Ci piace questa situazione Ok Allora Vedo un runner Che si è affacciato Un attimino E potrebbe darmi I problemi Se si avvicina Ok Non pensiamo ai triangolini Perché il regen Che abbiamo È sufficiente Eccolo Che c'è prova Ah Sta a fatim con quell'altro No Hai capito Proprio male E c'è pure Geck là sopra Che sta svolazzando Ragazzi Sono terzo In classifica GG Saliamo sul podio Saliamo sul podio No Mi si è levato Un mouse Adesso No Aiuto No Il mouse No Uh Mi è tornato Devo muovermi Piano col mouse Perché mi si è staccato Ho sentito Che si è staccata La cosetta Paura Ok No Si è ristaccato No raga Devo muovermi Io Ok No Si è staccato Ma perché fa così Adesso Ok Mi ho paura Cioè dai Arriviamo in classifica E poi il mouse Mi fa gli scherzi Perché questo è complotto Raga È complotto Eh Non si fa No Non si fa Ok Vediamo un po' Se riusciamo A distruggere Un altro di questi Allora Qualcuno è morto E però Quello che l'ha ucciso È salito di Una vagonata di punti E mi ha superato Con un attimo E io adesso Riprendo un po' di punti No Me l'hanno fregato Me sa Sono riuscito a fregarmela All'ultimo secondo Me sa Ai 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 E c'è quel Red Red Reda Come si chiama Effettivamente rompe le scatole Ok Sono riuscito ad arrivare Secondo Perfetto Adesso c'è solo Keck davanti a me E Keck È un grosso problema Perché abbiamo capito Che è un runner Quindi potremmo fare Una bella cosa Rischiamocela tutta E ecco che è arrivato questo Che pareva Che arrivava lui Deve far simpatico Eh no 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 Lo sta rifà eh Lo sta rifà un'altra volta Lo stesso di prima Ovvio e bio Mi hai Rotto le scatole Ok Eravamo arrivati i secondi Ultimo tentativo E stavolta Provo a cambiare classe La faccio sempre aggressive Non si fa così Questa classe ragazzi Questa è una cosa Che faccio io Di solito sbagliata Ma a me mi piace Giocarlo così Perché lo voglio Molto Cattivo Voglio correre Rischiare di morire Ma rischiare di uccidere Questa è la classe Quando mi diverto No No aiuto Dai non ci credo Dai non ci credo E' riuscito a ammazzarmi prima Mi sa che mi hanno Depotenziato la modalità Flank carina Quella da danni Perché hanno capito Che faceva troppi danni Forse Ok Non sto sparando Così non nota Il mio movimento E siamo rientrati E vediamo che riusciamo A combinare Allora Questo è un maledetto Cecchinozzo Che se sta da Però è uno di quelli Tank fisici Perché si vede Da quando non sparano Anche per spostarsi Questo è un incipit Che vi spiega subito Che sono dei maledetti Ok Allora Vai così Prendiamoci Bullet speed Reload In questa bellissima classe Se avete bullet speed Vi fa correre di più Molti lo fanno anche Movement speed Ma io preferisco di no Preferisco comunque Come è successo adesso Killare per sbaglio Sinceramente Perché quelli tankosi Sono belli di quelli che corrono Però Però Non sono così divertenti Come quelli che fanno danno Perché non se l'aspetta Nessuno Che questi fa danno Perché fanno un danno Pazzesco Con un singolo colpo Però Si muovono anche Molto velocemente Quindi bisogna soltanto Sapere gestire Perché sono fragili In questa modalità Ok Allora Ce la possiamo fare Cerchiamo di arrivare Comunque Abbiamo raggiunto Un buon traguardo Oggi siamo arrivati Secondi Dopo tanto che non giocavo Quindi complimenti Guarda quello Lo stavo uccidendo io Poverino E E volevi In pratica Le ho fatti uccidere Tra di loro Colpendoli io Ok Questa è un'ottima cosa Allora Vediamo un po' Di riuscire a portarci a casa Eccolo il triangle Vedete Vedete La velocità Pensate La velocità E il danno insieme Eccolo qua Eccolo qua No Dai Il mouse Mi è andato Sull'altra schermata Ecco il brutto Di avere due monitor Non è giusta Questa cosa Porca miseria Era andato Tanto bene Dai ci riprovo L'ultima volta E poi Vi dico Ciao Perché abbiamo fatto Una bella partitozza Lunga Senza tagli Bella E cattiva Questa è L'ultima prova Che cerco Di fare Vediamo un po' Fino a quanto durerà Mo tipo Muoio secco Perché mi circondano Ho ucciso qualcuno Senza volerlo E questo è il bello Anche di questo gioco Ogni tanto ammazzi qualcuno Senza neanche Averlo mai visto Ok Quello è respawnato Adesso Quello è un runner Tankoso Quindi si è dato Dopo che ha visto Che io ho fatto Oh miseria Ma non mi ha dato i punti Ma Ma no Come è morto allora Ma io l'ho visto morire Dopo che l'ho toccato Qui c'è qualcosa Di buggo Oppure Probabilmente L'ultimo colpo Non era il mio Ma era di qualcun altro Che stava cercando di Mamma mia I danni lì Preso No Si è salvato Che cuore che c'ha Non ci credo Come si è salvato Quello Lo vediamo Niente Si è salvato pure lui Si stanno salvando Un po' troppe persone Qua eh Non mi sta bene Sta cosa Voglio ritornare Triangle E correre Come prima Veloci Come il fulmine Ok Comincio a essere Un po' circondato Oppela Vediamo un po' Se questo lo acchiappiamo Anticipando il movimento Si Che Asdofs Mi piacerebbe Killarli a quelli Ma Sono ancora un po' Ok Questo ce lo siamo Levanti dalle scatole Guardalo Asdofs Che ci prova A romperci le scatole Ok Bullet speed Perfetto Prendiamo un po' di punti Prima di riprovare Ad attaccare Eh Miro anche verso il leader Così magari Che pia un colpetto Sopra un fianco E se fa Tanti di quei danni Che neanche Se ne accorge Che come classe In questa maniera Fa molti più danni Quindi un bel colpo diretto Lo sentirebbe tutto Allora Vai così Sono un triangle Finalmente Allora speriamo Che non mi si stacca Un'altra volta il mouse Mentre sto correndo Specialmente col triangle Ok Quello Poverino Se lo riesco a colpire bene Va giù Perché quella classe È debole totale A questa modalità Ok Il problema è che C'abbiamo un cecchino Che potrebbe pensare a me A rompermi le scatole Allora Stanno sparando Da tutti i pizzi Io ho un'ottima mobilità Ok Questo lo possiamo Anche eliminare Bene così Ce ne stanno altri Però questi sono anche Un po' più tankosi Ho notato Ahia quello è proprio tank Oh Asdf Vieni qui Che ti prendo Di strumo tutto Ok Lo faccio max health Quindi un po' meno veloce Vai così Ci stiamo Ok Forse abbiamo qualche possibilità Aggressive Di Di cominciare a combattere Ecco il problema Di questa classe A differenza delle altre Che fa tanti danni Col singolo colpo Ma prende anche tanti danni Da quei triangolini maledetti Per questo Me lo faccio max health E non me lo faccio Con la speed Come viene fatta In modo classico Ok Guardate la mobilità Di questa classe qui È stupenda Especialmente se volete fare Tutto il giro della mappa Se la volete fare In modalità tank Si gira soltanto intorno Si gira intorno Fino a che non si muore Ok Sto mantenendo vivo Perfetto Stiamo andando in faccia A dei colpi Che non so l'entità E la forza Di quei colpi Ok Ah è un runner Che sta qui a farmare Con il body damage Ok Gli frego un attimo questo Grazie Gentilissimo Ok Tra un po' posso fare il booster Che non mi ricordo come si chiama Mai di nome Pure quello Che sarebbe l'evoluzione Del triangle Che è un pochino più veloce A spinta Ma da quello che so Fa meno danni Con i due Cosi dietro Allora Vediamo un po' Ci stiamo Siamo quasi pronti All'evoluzione No al 45 Se non erro Ok Quello sta provando ad attaccarci In questa maniera E forse ci prende pure Dai però Ma quanto sei bravo A muoverli No Questo è bravissimo Questo tizio È bravissimo Questa classe è veramente fastidiosa In questo gioco Io l'ho sempre detto Non la sopporto più di tanto E soltanto le classiche Hanno veramente Un'uscita di colpi Ampia Riescono a fermarli Va bene ragazzi Questo era da IPO Per chi non l'aveva ancora mai visto O l'ha visto da Redex O l'ha visto da me Ai tempi Quando lo portavo Spero vi sia piaciuto Rivederlo Arriviamo a 300 like Condividete il video Iscrivetevi al canale Se sei nuovi Lasciate un tag da IPO Qua sotto nei commenti Per ricevere un cuoricino E ci vediamo In un prossimo episodio Grazie